Le comete Onda ed Elenin. Realizzano le profezie Maya, Hopi e Cristiana. Mentre il calendario Maya si avvicina alla fine il 28 ottobre 2011. Molte persone hanno sentito parlare del prossimo ingresso all'interno del sistema solare della cometa Elenin e c'è tutta una serie di idee e speculazioni su ciò che questo potrebbe comportare. Le comete sono sempre state viste come messaggere di buon auspicio o più comunemente minacciose e questo non fa certo eccezione. Si è ipotizzato che in realtà questa cometa sia una stella nana bruna, una navicella spaziale, o che possa causare i terremoti. In ogni caso questo autunno arriveranno due comete Onda ed Elenin, poi seguite dalla cometa Levi, creando una sequenza di corpi celesti nel cielo. Si stima che la cometa Elenin, che ha ricevuto la massima attenzione tra queste, sarà più vicina alla Terra verso il 16-20 ottobre 2011, vicino al punto medio del settimo giorno della nona onda o sottomondo universale. Per il fatto che apparirà in questo periodo, proprio prima della vera data 13 au culmine del calendario Maya 28 ottobre 2011, questa cometa è un fenomeno della fine del tempo a prescindere dalla natura specifica e dal ruolo che può avvere. Queste comete arriveranno così sullo sfondo di un crescente caos globale politico ed economico derivante dal fatto che le istituzioni del mondo non sono coerenti con la coscienza d'unità in arrivo con la nona onda. Per questo vale la pena approfondire il collegamento di questa cometa con le profezie sulla fine del tempo secondo varie fonti. Nel libro, Il calendario Maya e la trasformazione della coscienza 2004, ho scritto. Almeno alcuni piccoli cambiamenti della Terra possono quindi derivare dall'elevato cambiamento di frequenza della coscienza che stiamo subendo. È insostenibile l'inversione di causa ed effetto per creare un'idea del giorno del giudizio in cui i cambiamenti della Terra sono presentati come il vero scopo della creazione. Eventuali effetti fisici dovrebbero essere visti solo come prodotti del campo di coscienza e la maggior parte del cambiamento climatico sarà probabilmente causato da emissioni di anidride carbonica piuttosto che da un presunto piano divino per la distruzione della Terra attraverso i cambiamenti geofisici. Questo era riferito al sottomondo galattico e probabilmente solo con il sottomondo universale vedi figura la frequenza è diventata così elevata che i cambiamenti della Terra non possono più essere classificati come minori. Ciò che risulta anche da questa citazione è che ho cercato di tenere distinto il mio punto di vista da quello di coloro che si concentrano solo sui cambiamenti della Terra in quanto tali, senza fornire un contesto significativo per il loro verificarsi. Ho sottolineato che il calendario Maya è fondamentalmente un'evoluzione della coscienza ed i cambiamenti della Terra avvengono o per favorire questa evoluzione o sono effetti conseguenti dell'evoluzione stessa. Ho quindi concluso che l'attuale nona onda del calendario Maya indica una direzione irreversibile verso la coscienza unitaria, che si concluderà entro la fine dell'anno. Figura 1. La nona onda del calendario Maya fino alla sua data finale il 28 ottobre 2011 con l'indicazione appunto più vicino alla Terra della cometa onda, B cometa Elenin tra la Terra e il Sole e C minima distanza della cometa Elenin. Alcuni hanno anche messo in dubbio che, nonostante la sua elevata frequenza, la nona onda del calendario Maya possa portare questa nuova coscienza in un periodo così breve di tempo. Tuttavia i suoi giorni sono ora espressi nell'unità della rivoluzione mondiale con epicentro in Nord Africa e Sud Europa più di recente, le donne saudite hanno iniziato a guidare. Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che la seconda metà di un'onda manifesta sempre i suoi fenomeni in modo molto più sostenuto rispetto alla prima metà, e che quindi la rivoluzione mondiale d'unità si intensificherà. La data del 4 luglio come data di inizio della seconda metà può implicare che le richieste di una vera democrazia, che sono attualmente in fase di crescita nell'Europa meridionale, si diffonderanno anche negli Stati Uniti. In aggiunta, sembra probabile, che avvenga un collasso monetario nel mese di agosto considerando l'alto livello di indebitamento e altri fattori nei paesi chiave. Il sottomondo universale ci chiamerà quindi sempre più a diventare cittadini del cosmo e modificherà i nostri limitanti confini nazionali. Inoltre, in questa alta frequenza di cambiamento, i cambiamenti della Terra si intensificheranno e la cosa interessante è che a volte i corpi celesti sono sincronizzati con l'evoluzione del piano cosmico in modo da creare balzi in avanti. Questo può anche accadere nel prossimo futuro attraverso l'avvicinarsi delle comete. Dopotutto, l'albero cosmico della vita, che si basa sul calendario Maya, è il fattore di sincronizzazione dietro a tutti gli eventi dell'universo e sappiamo che i corpi celesti hanno giocato un ruolo evolutivo in passato. Inoltre, se tali eventi celesti originano nel piano divino può anche significare che possono a volte essere predetti da profezie. Prima di entrare nelle profezie darò due esempi di corpi celesti, che hanno svolto un ruolo di supporto per l'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Il primo è l'impatto di un corpo celeste delle dimensioni di Marte, che dalla scienza attuale si ritiene abbia dato origine alla Luna 4,5 miliardi di anni fa. L'altro evento miracoloso nella storia della Terra è il meteorite, che 65 milioni di anni fa l'ha colpita e ha dato origine al cratere di Chicxulub in Messico ed ha oscurato il cielo per un lungo periodo. Questo ha portato all'estinzione di tutti i dinosauri e plesiosauri sul nostro pianeta. La ragione per cui questo meteorite che apparentemente distruttivo può essere chiamato miracoloso è che senza di esso con l'esatta dimensione che aveva non saremmo qui a parlarne oggi. I dinosauri potrebbero ancora essere in giro a mangiare tutti i mammiferi che potevano evolversi. Se, d'altro canto, questo meteorite fosse stato di una dimensione doppia tutta la vita sulla Terra, compresi i mammiferi, si sarebbe estinta e non saremmo qui neanche in questo caso. Inoltre tale impatto è stato molto preciso temporalmente e aprì la strada per i mammiferi superiori, che si sono sviluppati all'inizio del settimo giorno del sottomondo dei mammiferi. Questi eventi, la formazione della Luna e l'estinzione dei dinosauri perciò sono chiaramente serviti per l'ulteriore evoluzione del piano cosmico e il suo scopo, ma sembra ancora incomprensibile per una mente umana come questi corpi celesti possano avere una tale precisione di dimensioni e di orbita per realizzare la continua evoluzione della vita sulla Terra. Quando si tratta di una serie di comete che si stanno avvicinando alla Terra sento che dovremmo essere aperti alla possibilità che anche questo è stato progettato dalla intelligenza divina e che svolge un ruolo specifico che preparerà il mondo per la fine del tempo il 28 ottobre 2011. Va sottolineato poi che non c'è nulla, che indichi che farebbe parte di questo piano, che tutta la vita sulla Terra finisca, sia in occasione di eventi passati o in futuro. D'altra parte questo non significa che non ci saranno vittime. Parlare delle eventuali interazioni fisiche che le due comete possono avere con la Terra è tuttavia difficile in questo momento. I dati che sono stati forniti da siti ufficiali astronomici sono poco significativi per avere un'influenza diretta sul nostro pianeta. Tuttavia prevedere questi parametri è difficile in quanto sono soggetti a cambiare nel tempo e nessuno può prevedere con certezza i valori esatti. Eppure, a meno che qualche nuovo dato venga fuori da fonti astronomiche attendibili non vedo alcun motivo di dubitare che queste comete non siano altro che piccoli pezzi di ghiaccio. Indipendentemente da tutto ciò, queste comete possono ancora avere un ruolo significativo nello scenario della fine del tempo. Ho infatti la sensazione che la sincronicità di Lenin con la fine del calendario Maya sia un fatto molto interessante che merita di essere considerato in relazione anche ad alcune antiche profezie. Prima di esaminare tali profezie possiamo notare che alcuni hanno letto nel nome Lenin dal suo scopritore russo le iniziali della frase Extinction Level Event Niburu Isnear. Una lettura più appropriata secondo me, date le prospettive disastrose del sistema monetario mondiale nella seconda metà del sottomondo universale, potrebbe tuttavia essere il più Lenin messaggero di Dio più rivoluzione anticapitalista. Nelle discussioni in corso diverse persone sostengono che la cometa Lenin sia una nave spaziale, e che ci sia una cospirazione dei potenti per mantenere segreto il suo prossimo arrivo alla popolazione. Qualsiasi cosa sia non credo che nella situazione attuale cambi molto per noi. L'idea più popolare sulla cometa Lenin è che sia legata al previsto ritorno di Nibiru, un'ipotetica nana bruna compagna del nostro Sole. L'esistenza di Nibiru è stata inizialmente proposta da Zekaria Sicim basandosi sulla lettura di testi sumerici, ma prima della sua morte l'anno scorso ha detto chiaramente che non credeva che avesse qualcosa a che fare con il 2012 ed è davvero difficile capire perché avrebbe dovuto. L'idea che Nibiru sarebbe tornato nel 2012 o più specificamente il 21 dicembre 2012 non è supportata da alcuna prova. Nibiru è apparso in video visto da milioni di persone su Youtube in una strana miscela tra le idee di Sicin e la data sbagliata del calendario Maya. Mentre i sostenitori di questa idea parlano ampiamente di insabbiamenti e complotti per mantenerci all'oscuro della sua esistenza non vi è infatti alcuna prova che Nibiru esista. Inoltre la connessione tra Nibiru e il 2012 è già discutibile in quanto nessuna antica profezia Maya parla della sua esistenza. Il collegamento tra Nibiru e il 2012 poi diventa ancora più discutibile se si pensa che i suoi sostenitori hanno sostituito il tracciato dell'evoluzione del calendario Maya con gli effetti provocati da questo ipotetico pianeta per spiegare il corso degli eventi umani. Personalmente non vedo alcuna ragione per abbracciare un'idea che manca di fondamento sia nella scienza moderna che in un'antica profezia. Tuttavia, dal momento che ha acquisito una grande popolarità, spesso associata con uno spostamento dei poli e con un'inversione della rotazione terrestre, sembra possibile che indichi uno scenario che avrà effettivamente luogo, ma con basi diverse. Potrebbe per esempio essere che questa visione collettivamente condivisa non sia vera in quanto tale, ma che punti ad una cometa in avvicinamento, e che questo non coincida con una inversione elettromagnetica dei poli, ma con un cambiamento della polarità della coscienza nel modo che conosciamo in base al calendario Maya. La profezia Hopi fornisce un'altra fonte per considerare Elenine e forse anche la cometa onda, che la precede dal momento che questa cometa potrebbe essere la stella blu Cachina, l'occhio di Dio, che è uno dei segni della fine dei tempi. E questo è il nono ed ultimo segno tu sentirai di un luogo nei Cieli, sopra la Terra, che cadrà con grande fragore. Apparirà come una stella blu, questi sono i segni che una grande distruzione è imminente. Il mondo oscillerà. L'uomo bianco combatterà i popoli di altri paesi, quelli che possedevano la prima luce della saggezza. Ci saranno molte colonne di fumo e fuoco come quelle che l'uomo bianco ha già fatto nel deserto non lontano da qui. Molti del mio popolo, comprendendo le profezie, saranno al sicuro. Quelli che abitano e vivono nella terra del mio popolo saranno salvi. Allora ci sarà molto da ricostruire. E presto, subito dopo, Pana tornerà. Porterà con sé l'aurora del quinto mondo pianterà i semi della sua saggezza nei nostri cuori almeno ora i semi sono stati piantati. Questi spianeranno la via per emergere nel quinto mondo. Virgolette. Il mio intuito mi dice che Elenina è davvero la stella blu, che secondo quanto letto sopra sembra implicare un qualche tipo di impatto vicino. Per essere certi di questo dovremo aspettare e vedere di che colore è. È comunque già degno di nota che il nono ed ultimo segno della profezia Hopi corrisponda a ciò che è prodotto dalla nona e più alta onda del calendario Maya. Forse questa cometa è infatti anche un segno del ritorno di Quetzalcoatl, il serpente piumato, della profezia azteca barra tolteca. Scritto da. Carlo Ancalleman 23 giugno 2011. Prima parte.